Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Spero che questo mio secondo ASMR vi piaccia. Ho cercato di fare questo video senza il microfono, sperando che voi mi sentiate. Se vedrete le luci della candela che riflette, ora vi farò ascoltare dei suoni, cioè dei rumori, di alcuni oggetti che a me mi piacciono molto. Il primo è un mio diario che avrete già visto in un mio video, ve lo metto qua sopra, così potete vedere di cosa si tratta. Questo è un quaderno totalmente in velo. Come potete vedere è molto beloso, molto morbido. È veramente morbidissimo, una scelta apposta perché ha quell'effetto molto calmante appena non toccate, come potete vedere è molto molto morbido, sia da un lato che da un altro. Magnissimo. Sentite com'è morbido. Siamo quasi che a carezzare un gatto nero. I gattinelli non portano sfortuna, sono molto 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 belli. Come questa, con questo diario molto morbido. Siamo quasi che faccio le pose come i gatti. Come questa, con 200? Come questa, con 200? Molti siete critici a quanto riguarda i gufi, ma questo è uno dei miei oggetti preferiti ed è fatto in un materiale molto particolare che ho, come potete vedere e sentire, molto molto particolare. Questo bufo mi porta la fortuna, non abbiate il timore dei bubi, sono animali dotturni. Sono animali molto buoni, molto 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 carini, mi porta una bella sventura. Questo poi è veramente bello perché è fatto di un materiale molto liscio. Chiedete pure quello che volete al mio cufo e lui esaudirà i vostri sogni per i cogniti. E' un cufo portafortuna e un dei miei animali benvenuti. Ora, come altro oggetto, vi farò sentire il rumore di un oggetto che magari vi è molto familiare. Molto di voi penso che conosca cos'è una chiappasogna. Io in questo caso ce l'ho in miniatura perché con la candela avevo qualche piccolo problema. E una mia collana. Come potrete notare, è molto bella. Vediamo appunto, c'è anche i bosogni. La mostra e questi campanellini veramente belli. Arbogli. e le miei occhi sono stati e le miei occhi sono stati e le miei occhi sono stati Esprimete pure un desiderio, esprimete un desiderio e io si potrò lo farò realizzare, se avete dei brutti sogni, la capitale che ha bisogno ve li catturerà e ve li farà svanire. La capa sogni è un antico rimedio contro i brutti sogni indiani. Indiani lo utilizzavano da mettere vicino al letto ma anche fuori dalle porte per aiutare contro gli spiriti cattivi ai brutti sogni dei bambini. Fissate questa chiappa sogni e spero poi possiate rilassarvi. Questa candela vediamo la porta in un video perché mi fa del calore e anche benessere. Chiudete gli occhi e immaginate di essere in un posto bellissimo con un valore vicino al mare o a un fiume. Per sentire solo il rumore delle onde e di questi campanelli che vi portano via i pensieri negativi. E' un'ultima cosa che volevo far sentire nel suono di questa piuma che l'ha recato mio caro amico e lo ringrazio. E' una penna a piuma morbidissima aperta di un pavone. Tranquilli non prendi a fuoco con la candela. E' un pavone. In questo modo la mandata è una penna a piuma. E' un pavone dappiuma morbidissima aperta. E' un pavone dappiumi. E' un pavone dappiumi. E' un pavone dappiumi. sentite come è morbida questa piuma di un bellissimo animale un bavone un animale maestoso che si dica vi dice che apre le sue piume per far vedere quanto è bello ha la sua combattia sentite anche voi bellissimi come il bavone io con questo ultimo suono vi lascio e spero che questo video vi sia piaciuto vorrei sempre ringraziare in modo speciale la ragazza, la gemella Betta che mi aiuta sempre per questi video e anche a tutti voi che mi sostenete in questi miei video molto particolari e vi ringrazio e spero che vi siete rilassati e vi sia piaciuto questo mio video e niente ci vediamo in un prossimo video spero che vi siete rilassati e le mie candela vi salutiamo e niente fate tipo di sogno che vostri sogni si possano realizzare e siate felici e grazie grazie Grazie.